Sono pronti, qui Alessandro Marchio di Eni Castellucci, come posso aiutarle? Sì, pronti, buonasera signor Marchio, ecco, le spiego, a me è arrivata una bolletta di oltre 2000 euro da parte della vostra azienda, volevo sapere come posso, se mi poteva aiutare per questa problematica fortissimente, signor Marchio. Eh, cazzo il buono! E' rimasto cosa che voglio rivederlo, ciao, è rimasto cosa che voglio rivederlo. Ciao Albi, ciao. Questa è la spiaggia, gli altri sono a fare la spiaggia per Ferragosso e noi siamo a fare queste cazzate. In compagnia di un personaggio. No, no, ma anche lettore oltre che televisivo. Se scrive qualcuno legge, quindi pubblico lettore. Lettore MP3. Che io faccio un carretto. E niente? Dai, Giorguzzo, sto posto, sto posto, voglio rivedere. Io non lo sto facendo. Ciao, man. Dai, tanto le facciamo altre. Ciao.